Siamo con Sergio Brivio, il nostro esperto meteo. Allora, Sergio, che weekend sarà? Sarà ancora un weekend sostanzialmente estivo, soprattutto nella giornata di sabato, con le temperature che sfiorano di nuovo i 30 gradi in pianura. Nella giornata di domenica invece è atteso un peggioramento graduale a partire dalle zone altine e prealpine a causa di una perturbazione atlantica che raggiungerà a fine giornata anche le pianure, portando temporali che poi insisteranno per gran parte della notte e le prime ore di lunedì. Appunto, parliamo anche della prossima settimana. La pioggia sarà la protagonista? Direi di no, in quanto al seguito della perturbazione di domani sera, di domenica sera, ci sarà un altro episodio instabile a metà settimana, grossomodo tra martedì sera e mercoledì, quindi in quel frangente attendiamo un altro passaggio instabile, quindi rovescio e temporali. Dopodiché l'alta pressione potrebbe di nuovo avere il sopravvento e garantire una seconda parte di settimana stabile e soleggiata, con temperature poco estive, quindi con massime che difficilmente torneranno a raggiungere i 26-27 gradi, bensì staranno attorno ai 24-25 gradi in pianura.